Dragonite Dust è la soluzione moderna per i problemi podali sia per le vacche che per gli ovini. Si tratta di un prodotto innovativo formulato per durare a lungo e dare la massima igiene ai piedi degli animali. La rivoluzione nasce dal fatto che Dragonite Dust è commercializzato in scatole contenenti 8 sacchetti idrosolubili da immergere direttamente nel bagno podale senza aprirlo. Questo evita di produrre rifiuti non essendoci taniche da smaltire. Inoltre è un prodotto rispettoso dell'ambiente e degli operatori. Infatti non contiene formaldeide, rame, zinco e altre sostanze inquinanti. I principi attivi sono acido benzoico che è un effetto antimicrobico e il verde brillante che è un colorante usato come marcatore cellulare in microbiologia che crea un effetto barriera protettiva sulla pelle e sugli zoccoli. Come usare Dragonite Dust? Riempire con acqua pulita una vasca per bagni podali che abbia una capacità di circa 200 litri. La profondità del liquido deve essere di almeno 15 centimetri. Dopodiché si estrae il sacchetto idrosolubile di Dragonite Dust dal sacchetto di plastica e si immerge direttamente nella vasca dei bagni podali senza aprirlo. Grazie alla tecnologia di micronizzazione utilizzata per la fabbricazione di Dragonite Dust il prodotto si dissolve rapidamente e completamente e infine mescolare la soluzione per renderla omogenea. Dragonite Dust colora i piedi degli animali in maniera marcata e duratura evidenziando la barriera di protezione degli zoccoli. Il bagno podale così preparato è sufficiente per 250 passaggi. Qualora ci fosse la possibilità di predisporre una vasca di prelavaggio con la stessa soluzione il numero di passaggi sale a 350. In ogni caso quando il prodotto non è più attivo il colore non è più evidente sul piede. Infine per quanto riguarda lo smaltimento la soluzione può essere smaltita nella fossa delle quame e non interferisce con il funzionamento del biodigestore.